Ora è il momento della fine dei saluti. Noi abbiamo cominciato stamattina all'alba con la corsa di DGL Champions per le vie di venerie e il tramonto e il momento del Ministro Medea, Marianna. Tanto com'era il caffè? Il caffè era buonissimo, infatti metà me l'ha rubato qui. Buonissimo, caffè buonissimo. E non so se, come dire, è il tramonto, lo ha detto giustamente Riccardo, però io lo so e non voglio sfuggire da questo. Quando pensiamo alla pubblica amministrazione, nell'immaginario collettivo, pensiamo ancora a qualcosa di molto lento, di molto faticoso, di molto disorganizzato. In un'immagine tendenzialmente sono faldoni di carta polverosi. Poi invece nell'immaginario collettivo, in quello stesso immaginario collettivo, se pensiamo al privato, pensiamo a qualcosa di innovativo, di veloce, una fotografia, un sito di e-commerce che in qualche secondo ti fa acquistare quello di cui tu hai bisogno. Qual è il male peggiore però, secondo me? Il male peggiore è la rassegnazione collettiva. L'idea che da questo stato di cose non si possa e quasi non si debba uscire. Guardate, questa rassegnazione collettiva su questo punto ancora nel Paese si respira, ma tra voi, Digital Champion, voi avete questa forza, quella di dire no, noi oggi voltiamo pagina. E la giornata di oggi è una testimonianza concreta che si volta pagina. E si volta pagina perché ci sono idee, perché ci sono progetti, e questo sicuramente. Ma anche, credetemi, e si respira qua dentro perché c'è la forza e l'energia per voltare pagina. E che cos'è che noi vogliamo fare? Qual è l'obiettivo di mettere tutta questa forza e questa energia? Noi vogliamo un'amministrazione, dove è stato detto in tanti interventi, un'amministrazione pubblica dove, penso a Alessandro Baric, una multa ti venga notificata sullo smartphone, tu la paghi con un click, eviti ricevute cartacee ed eviti file negli uffici. Vogliamo un'amministrazione pubblica dove un imprenditore che vuole aprire un sito produttivo, qua c'è anche la presenza di, in platea c'è una presenza importante anche di platea imprenditoriale, un imprenditore che vuole aprire un sito produttivo deve sapere con regole certe e tempi certi se quel sito può aprirlo o non può aprirlo, senza più rimanere ostaggio di inerzia nelle autorizzazioni. Vogliamo un'amministrazione pubblica dove un investitore internazionale che vuole venire a portare risorse per lo sviluppo del nostro Paese non è terrorizzato dall'opacità e dal rischio della corruzione. Ecco perché io credo che questa sia la volta buona per riuscire ad avere questo Stato. Perché vedete, l'ha detto anche il Presidente del Consiglio, noi non stiamo affrontando la digitalizzazione del Paese come un tema per una nicchia di addetti ai lavori in ogni singola amministrazione che hanno degli obblighi di digitalizzazione da adempiere. Noi prima di tutto, al di là anche della digitalizzazione, abbiamo un progetto complessivo di cambiamento per il nostro Paese. Qual è questo progetto? È quello di fare dell'Italia, che è un Paese bellissimo, ma questo non per merito nostro, anche se stare anche qui a Venaria ce lo ricorda una volta in più e saluto la Presidente, donna di questo posto meraviglioso, ma di fare anche del nostro Paese un Paese semplice, un Paese dove è semplice vivere, dove è semplice lavorare, dove è semplice fare impresa non solo, Elio, nel senso di farla nascere quell'impresa, ma poi anche nel senso di farla crescere, di portarla avanti quotidianamente. E guardate, fare del nostro Paese un Paese semplice ci aiuta a guadagnare in relazioni umane, ci fa guadagnare tempo anche per quella parte, quello spazio importante delle nostre vite che è quello delle relazioni umane. Noi quindi abbiamo questo progetto e ogni azione del Governo è un tassello di questo mosaico, dalle riforme costituzionali che semplificano i rapporti fra livelli istituzionali alla riforma della pubblica amministrazione che semplifichi i rapporti fra amministrazioni e amministrazioni e cittadini. E che cos'è l'innovazione tecnologica in questo mosaico, quindi in questo progetto complessivo di cambiamento per il Paese? Non è uno degli strumenti per cambiare lo Stato, è lo strumento per trasformare lo Stato e fare davvero del nostro Stato e della nostra pubblica amministrazione una pubblica amministrazione competitiva ed anche più democratica. Ora il progetto è molto semplice, io ringrazio Paolo Barberis che ha pensato a Italia Login, è molto semplice, è stato raccontato, noi oggi abbiamo la tecnologia che ci consente di ricevere i servizi dell'amministrazione per via digitale, di adempiere agli obblighi verso l'amministrazione per via digitale, abbiamo iniziato con la dichiarazione precompilata e anche di scambiarci dati e informazioni con la pubblica amministrazione per via digitale. Oggi solo il 30% degli italiani lo fanno, noi quel numero lo vogliamo cambiare, certamente alzarlo quindi nella quantità, ma lo vogliamo cambiare anche nella qualità. E qui chissà, forse fra due anni quando ci rincontriamo qui convinceremo anche Alessandro Baricco, perché vedete io non credo che sia un servizio digitale come lo pensiamo noi, un servizio che implica che tu debba scannerizzare un documento, stamparlo e firmarlo, quello è un po' quel passaggio dalla pellicola al digitale che ci diceva Alessandro Baricco, no, noi vogliamo proprio il digitale, quindi quel 30% lo cambiamo anche nella qualità concependo il servizio dello Stato fin dall'inizio in modo digitale, quello che ci diceva molto bene Paolo Barberis. Oggi noi abbiamo tutti gli strumenti per realizzare questo progetto, abbiamo prima di tutto gli strumenti normativi, non è un caso se è il primo articolo della riforma della pubblica amministrazione che ci consegna l'onore, io direi, di fare un decreto legislativo che modifica, semplifica e innova il codice dell'amministrazione digitale, quella è la base giuridica per Italia Login e quel decreto noi prima di Natale lo portiamo in Consiglio dei Ministri, quindi gli strumenti giuridici li abbiamo, abbiamo gli strumenti finanziari, guardate è stato detto in alcuni interventi, ma io su questo voglio insistere, noi stiamo cambiando anche sul digitale l'approccio di usare le risorse, anche sulla programmazione comunitaria, non aspettiamo le risorse per scegliere i progetti, noi prima di tutto abbiamo un progetto che è quello che ci stiamo raccontando qui oggi e per implementare quel progetto usiamo le risorse, abbiamo poi gli strumenti che ci vengono dalle infrastrutture concrete su cui viaggerà Italia Login e qui come dire Speed è il primo, l'identità digitale, quel pin unico che nel tempo dovrà diventare per ogni cittadino come il codice fiscale, che consentirà ad ogni cittadino di autenticarsi, noi con Speed, non so se è chiaro, partiamo subito, partiamo quest'anno, significa che iniziamo a distribuire le prime identità digitali e da subito ci sarà una base di 300 servizi digitali, noi con l'identità digitale siamo all'avanguardia in Europa, questo è un punto fondamentale perché questa è l'infrastruttura portante che ci consegnerà poi a regime Italia Login, seconda infrastruttura sono quattro, l'anagrafe della popolazione residente, anche qui il passaggio da 8 mila banche dati dei comuni a una sola banca dati nazionale, però la cosa che ci dobbiamo dire oggi è che non è che stiamo parlando di qualcosa che verrà, anche sull'anagrafe partiamo subito, partiamo da quest'anno con i primi comuni. Terza infrastruttura, carta di identità elettronica, ne ha parlato Paolo, mi potreste dire, ma me lo direi io stessa, è un progetto di cui si parla da 20 anni, effettivamente è vero, però noi abbiamo semplificato il progetto, noi abbiamo messo le risorse per realizzarlo e quindi la carta di identità elettronica diventa il terzo pilastro fondamentale per Italia Login. Il quarto è il nodo dei pagamenti, però Antonio permettimi di dirlo, il nodo dei pagamenti semplificato, cioè alla fine dei due anni quando ci rincontriamo qui nel 2017 si dovrà poter pagare con un click in modo semplice, perché qui da cittadina io vi dico dobbiamo uscire da quell'incubo per cui tu paghi e devi tenere quella ricevuta vita cartacea in un cassetto a casa perché hai il terrore che siccome gli uffici pubblici non dialogano tra loro, magari dopo mesi o anni ti chiedono quello stesso pagamento. Sapete che cos'è che mi inorgoglisce di più di questo progetto? È il fatto che per una volta, sì per una volta, almeno io non ho memoria di una cosa diversa, non è il pubblico che in affanno segue il privato, ma è il pubblico che con un progetto chiaro e in via di implementazione chiede e apre nuovi servizi digitali e nuove modalità di interazione nelle quali sono certa entra anche il privato. Antonio Samaritani diceva che ci sono già tre richieste di accreditamento per il sistema di identità digitale, Poste, Telecom, InfoCert, però raccontava anche di un lavoro intenso e importante che si sta facendo con Banca d'Italia. Ecco, io sono certa che anche le banche entreranno dopo questo lavoro che stiamo facendo dentro il sistema pubblico di identità digitale e allora noi davvero in questo modo non parliamo più solo di digitalizzazione, non parliamo più solo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Io è questo il punto che vorrei riuscire a contagiare in modo reciproco con i digital champion. Noi stiamo parlando di democrazia, noi stiamo parlando non più solo di una serie di obblighi ma di una serie di diritti, di cittadinanza digitale, non solo e non tanto di modernità. Noi stiamo spostando completamente il focus della nostra azione dal processo amministrativo ai cittadini, alle imprese. Stiamo col nostro lavoro collettivo liberando le potenzialità di questo Paese, stiamo col nostro lavoro collettivo mettendo delle basi importanti per migliorare la vita delle persone, stiamo in una parola, secondo me, facendo quello che i nostri predecessori hanno fatto con l'istruzione per tutti, cioè stiamo contribuendo a dare al nostro Paese un motore vero, concreto che si tocca per la crescita. E arrivo all'altro tema che ovviamente lega innovazione tecnologica a pubblica amministrazione, che è il grande tema della trasparenza. Anche questo in diversi interventi è stato affrontato, nell'ultimo intervento di Bellisario. Vedete, intanto ci dobbiamo chiarire su cosa è la trasparenza Riccardo, anche qui. Non possiamo intendere la trasparenza come una serie di adempimenti burocratici per le amministrazioni. Dio ci scampi da questo e con convinzione, sapendo che mi capite, lo dico proprio a questa platea. La trasparenza è un'arma potente nelle mani di chi governa, di chi amministra. La trasparenza è una grande politica trasversale che previene a costo zero dall'illegalità e dalla corruzione. È una politica efficace contro la corruzione. Coniuga legalità ed efficienza, perché sradica alla radice sprechi e in efficienza attraverso, lo diceva Matteo Renzi, un controllo sociale diffuso di 60 milioni di cittadini che fanno certamente meglio del più bravo commissario alla spending review. Diciamocelo con chiarezza, la trasparenza è la vera politica di riqualificazione della spesa pubblica fatta in modo non lineare ma selettivo. E qui vorrei anche rispondere a uno scambio di punti di vista che ci sono stati anche sull'intervento che ha fatto il governo nella legge di stabilità. Noi nella legge di stabilità, sia chiaro, aumentiamo la spesa in ICT, aumentiamo le risorse e la capacità e la possibilità di spendere per le amministrazioni in ICT. Perché c'è un punto che deve essere chiaro. Non c'è spesa che non possa essere riqualificata. E noi proprio perché crediamo che quella spesa è una spesa strategica ed è una spesa strategica per la crescita e lo sviluppo, chiediamo uno sforzo in più. E cioè chiediamo che non ci sia un euro di quella spesa che non vada ad innovazione. Tutte quelle risorse per poterci guardare negli occhi tra noi devono essere spese in innovazione tecnologica. E poi la trasparenza, scusatemi, siccome non è scontato avere una platea di persone giovani come quella che tu Riccardo sei riuscito oggi a riunire qui, la trasparenza è anche un'arma potente contro i populismi. Contro quei populismi che oggi vorrebbero cavalcare il limite dell'istituzione, facendo leva sulla percezione che hanno i cittadini di una sorta di opacità nel processo decisionale e nell'allocazione delle risorse pubbliche. Noi a questo diciamo no e noi a questo rispondiamo con la trasparenza, perché la trasparenza riavvicina cittadino e istituzione. E anche qui, vedete, non è un discorso filosofico. Noi stiamo facendo e abbiamo fatto delle cose. Prima di tutto abbiamo introdotto il principio del Freedom of Information Act nella riforma della pubblica amministrazione, ma quel principio in un decreto che porteremo in Consiglio dei Ministri prima di Natale diventerà il Freedom of Information Act in gazzetta ufficiale. Quello che chiedeva Belisario. Portiamo l'Italia ad avere tra le legislazioni più innovative al mondo in tema di trasparenza e però noi non abbiamo aspettato la legge. Guardo Riccardo, c'è voluta forza ed energia e ringrazio Riccardo Luna, ringrazio Menduni per fare Open Expo. Ma noi la sfida di Expo l'abbiamo vinta anche sulla trasparenza e noi continueremo quel progetto di Open Expo che di fatto è diventato un progetto pilota di apertura dei dati per il dopo Expo, è diventato un modello replicabile con l'aiuto anche del Ministero delle Infrastrutture di Graziano del Rio, oggi qui presentiamo Open Cantieri e porteremo quel modello agli altri grandi eventi del nostro Paese per testimoniare davvero che alla trasparenza noi ci crediamo. Ci è voluta altrettanta forza e altrettanto energia per fare il sito soldi pubblici, ma oggi noi abbiamo un sito che può paragonarsi a quello degli altri Paesi che sono emblematici e campioni sulla trasparenza. Noi abbiamo aperto pubblicamente le spese di tutte le amministrazioni dai comuni allo Stato, abbiamo lavorato con ragioneria dello Stato, tutto è migliorabile ma quel sito oggi c'è. Ci vorrà forza ed energia, qui lo devo dire al futuro, per coordinare tutti i siti della pubblicazione e fare in modo che il cittadino guardando un sito pubblico possa capire immediatamente e facilmente dove andare a cercare il dato che gli serve. Qui ci vorrà forza ed energia, però credetemi, noi ce la mettiamo. Oggi abbiamo già presentato il sito del Governo, c'è un inizio di sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, il Ministero delle Infrastrutture è già allineato con il nuovo sito che partirà già con questi standard e noi partiamo proprio dai Ministeri e dallo Stato centrale e vi assicuro non li lasceremo in pace fin quando non avremo tutti i siti del Ministero semplici da navigare e con una lingua uguale per tutti. Vado verso il momento della conclusione anche perché ci sono treni aerei che partono e che tutti noi dobbiamo prendere. Io davvero di cuore vi voglio ringraziare e vi voglio ringraziare perché tutto questo, tutto il racconto di oggi, tutti i racconti di oggi testimoniano concretamente che cosa? Che noi la stagione della crisi e dell'austerità ce la vogliamo lasciare alle spalle perché entriamo prepotentemente e concretamente nella stagione della crescita e delle riforme, riconoscendo all'innovazione tecnologica il fatto di essere leva per la crescita, cioè di aprire nuovi mercati. Guardate, con la fatturazione elettronica di cui abbiamo anticipato le scadenze abbiamo già dimostrato che si aprono nuovi mercati, lo diceva benissimo Riccardo. Io sono certa che con l'identità digitale e l'integrazione pubblica e privata ci aprirà nuovi mercati. Io non riesco neanche a immaginare i nuovi mercati che ci sono dietro quel mondo ancora inesplorato che è il riuso dei dati pubblici. Non voglio dirvi oggi qui andate in letargo due anni, tornate fra due armi, ci pensiamo io, Luna, Barberis, il governo, non è così e lo sapete.